Ciao a tutti, benvenuti, bentornati sul mio canale, sono Mariano, oggi vi voglio parlare di una tecnica chiamata Inbox Zero, oppure per dirla in italiano, non avere nessun messaggio di posta elettronica nella propria casella di posta elettronica. Un sogno vero? Infatti immaginiamoci quante email ci arrivano ogni giorno. Io a volte vedo, sbircio sui cellulari dei miei amici, di quelli che mi stanno vicini, e vado a leggere in rosso 300 email non lette, 250, a me mi prende un'ansia solo a pensare di doverle un minimo filtrare. Infatti questa tecnica non riguarda soltanto la gestione dell'email, ma è proprio una tecnica più generale della gestione del tempo, per essere sempre più produttivi e quindi non andarci a concentrare in cose che non sono assolutamente utili, ma che possiamo andare a sfruttare il nostro tempo per fare tante altre cose. Perché oppure alcuni che cosa fanno? Si prendono due ore il sabato e vanno a ripulire la propria casella di posta elettronica. Davvero una cosa che non possiamo permettercelo. Quindi oggi andiamo a vedere questa nuova tecnica anche perché adesso noi siamo immersi in tante altre messaggistiche, che no, non so, Facebook, i vostri commenti bellissimi sul canale che io ti incoraggio a fare e quindi abbiamo tante altre cose che dobbiamo andare a sistemare. Prima di partire ti voglio ricordare di iscriverti al mio canale, dai a te non costa nulla, non perdi tanto tempo a cliccare lì sul mouse, cliccare sulla campanellina, così ogni volta che vado a mettere un nuovo video tu sarai sempre la prima o il primo ad essere avvisato. Questi sono tutti gli altri miei social, ti aspetto sul canale Telegram, tante tante offerte a settimana che non ti possono sfuggire. Partiamo immediatamente e vi voglio raccontare la mia prima e-mail, casella di posta elettronica, era su libero.it, ancora esiste, esiste perché sono un romantico e quindi la tengo lì un po' al caldo. Però immaginiamoci quanto era bello una volta in cui tu andavi ad inviare un'e-mail e sapevi che quella faceva il giro del mondo ed arrivava magari nell'altra stanza. Poi potevi rispondere immediatamente, l'altro ti rispondeva immediatamente, insomma, dai, un'emozione unica per chi come me ha i capelli bianchi. Però adesso siamo sommersi, ci arrivano davvero tantissime e-mail e guardate, non sto parlando di e-mail di pubblicità, ma di e-mail di colleghi, amici, incontri da fare, riunioni e così via. Come andargli a gestire davvero al meglio? Questa tecnica non è nuova nel panorama di coloro che gestiscono il tempo. Risale a Merlin Mann, che nel 2004 fonda un blog famosissimo 43 Folder, che adesso, sono andato a visitarlo, è un cimitero di HTML, va, chiamiamolo così, in cui, ecco, non è stato più aggiornato, non so per quale motivo, però questo Merlin Mann nel 2007 fu invitato da Google stesso a tenere una Tech Talk, che oggi chiameremmo un incontro di formazione, ai propri dipendenti, proprio sulla gestione delle e-mail. E Merlin Mann fece questa conferenza famosissima, che sta ancora su YouTube, che io mi sono vista tutta per te e sono andato a leggere un sacco di cose che lui ha scritto, perché in questa conferenza, non era proprio una conferenza, una cosa molto informale, di formazione, lui però va a dare dei suggerimenti che poi Gmail, Google, ha ripreso negli aggiornamenti successivi della posta elettronica, e ne parleremo durante questa chiacchierata insieme. Una delle cose fondamentali che Merlin Mann dice è che ogni e-mail deve essere processata. Processata non vuol dire soltanto scaricare, leggerla ed eventualmente rispondere, ma deve essere un processo che poi ti deve portare a una gestione migliore del tempo. E lui dice che tu puoi fare ben cinque cose ogni volta che ti arriva una e-mail. E adesso andiamo a vedere una a una. Buttarla, delegare, rispondere, rimandare questa cosa che devi fare, oppure farla. Queste cinque cose che adesso andiamo a vedere nel dettaglio. Quando lui parla di cancellare, buttare, non intende soltanto andarla a mettere nel cestino, ma anche proprio non vederla più nella tua inbox, nella tua casella di posta elettronica, e dunque anche archiviarla. Ora lui dice, non bisogna andare ad archiviare ogni e-mail all'interno di cartelle strane, del tipo fornitori e clienti del 2012, che però non sono più fornitori e clienti del 2013. Insomma, lui dice, la archiviazione deve essere fatta in una sola cartella. Pensa un po' adesso al tasto di archiviazione che Gmail ha inserito all'interno della propria posta elettronica. Lì tu vai a mettere archivi, vai a mettere in un calderone enorme la tua posta elettronica. Infatti Gmail ha una concezione completamente diversa da tutti gli altri gestori di posta. Non ci sono le cartelle, ci sono al limite le etichette. Se non hai visto gli altri miei video su Gmail, te li raccomando. La gestione delle etichette ricorda un po' la gestione delle cartelle, ma è completamente diversa. E quando tu archivi va a finire in un enorme calderone. Delegare. Questo significa che magari quella posta elettronica non riguarda te e quindi la devi mandare a qualcun altro perché deve prendere informazioni, a qualcun altro perché tu non ti occupi di marketing o perché tu non ti occupi di personale. Quindi mandarla a chi di dovere. Rispondere. Chiaro. Ma qui rispondere vuol dire risposte veloci che non ti debbono portare via più di uno o due minuti, più di una o due righe. Insomma, una cosa che tu puoi fare nell'immediato. Se già sai la risposta, se già è solo una mail di saluti e quindi anche tu devi salutare, se devi dire sì ci sarò, fallo immediatamente ma non perderci più di tanto tempo. Oppure rimandare. Rimandare non vuol dire rimandare a lui, cioè rimandare il processo nel tempo. Questo significa che magari devi prendere maggiori informazioni, vuol dire che adesso non sai la risposta e quindi devi andare a prenderti del tempo per trovare maggiore serenità nella risposta. Pensiamo adesso al tasto di Google e alle funzioni che Google ci offre con il fatto che noi possiamo rimandarci l'email. Sapete? Quindi possiamo andarla a rischedulare. Questo significa che magari mi arriverà alle 8 di mattina del giorno dopo, mi arriverà alle 8 del lunedì successivo, così che io a mente fresca, oppure dopo che ho preso alcune informazioni, posso rispondere con maggiore precisione. Oppure farlo. Farlo significa che magari quelle email contiene una data per andare a mettere nel calendario, contiene una chiamata che immediatamente devi fare e quindi fai immediatamente ciò che la mail ti dice che tu in quel momento devi fare. La filosofia dunque che sta sotto ciò che lui ci dice è il fatto che la tua casella di posta elettronica non deve diventare uno scheduling della tua giornata. E cioè lui dice ci sono persone che al lavoro aprono la loro posta elettronica e vanno a vedere le cose che debbono fare durante il giorno. Ci sono strumenti molto migliori per fare questo, per andare a schedulare. La tua posta elettronica, lui dice, non deve diventare una to-do list, e cioè un insieme di cose da fare. Ok, la posta elettronica è una posta elettronica, non è altro che invece magari tu ti inventi che debba essere. Io quando vedevo il video e quando poi ho letto alcune cose che lui ha scritto e che altri hanno scritto su di lui e guardate questa mattina sentivo un podcast di uno youtuber che diceva che lui utilizza questa tecnica dell'inbox zero quindi ancora è molto molto di moda. Però ti voglio dire, quando l'ho letta mi sembrava un po' come il gioco di Tetris. Cioè ti arriva un'email e tu devi fare in modo di andarla a sistemare in mezzo a tutte le altre in modo che poi vada a scalare. Se invece poi tu alla fine della giornata non hai fatto tutto questo inizi le mail ti arrivano sopra i capelli e tu affoghi sotto il flusso di email, di notifiche, di cose che ti arrivano. Ora andiamo a vedere alcuni consigli in base sia a quello che dice lui ma anche a quello che poi è venuto fuori tutta questa filosofia dell'inbox zero. La prima cosa la dice proprio lui è che noi abbiamo a disposizione due cose, il nostro tempo e la nostra concentrazione. Se le andiamo a mettere tutte sulle email, siccome questi sono finiti, noi finiremo per stare sempre davanti al nostro monitor e controllare notifiche e cose del genere. Altra cosa che dice è che potremmo anche andare a mettere in pausa le nostre email. E guardate che ci sono degli strumenti, io ad esempio utilizzo Boomerang in cui posso andare a mettere in pausa il flusso delle email che mi arrivano in modo che mi posso andare a concentrare su quello che sto facendo. Altra cosa che potremmo andare a fare è il fatto di andare a darci degli orari in cui controllare le nostre email e tutte le nostre notifiche. E quindi non so, ogni ora spaccata vado a controllare. Questo però dipende molto dal lavoro che fai. Potrebbe essere ogni mezz'ora, ogni venti minuti a seconda di quanto tu devi rimanere. Però ti devi dare una regola, non puoi avere sempre la tua casella di posta elettronica aperta e qualsiasi cosa che arriva prende la leggi. Alcuni dicono, alcuni integralisti addirittura dicono che dovresti andare a cancellare l'icona e quindi il programma della posta elettronica sul tuo cellulare per rimanere concentrato. E poi alla fine dicono non ti preoccupare, tanto reinstallarla è molto semplice. Alcune considerazioni. Quando Mann parlava c'era probabilmente solo la posta elettronica e poco altro. Adesso invece siamo sommersi, lo dicevamo all'inizio, di commenti, notifiche, storie, tante altre cose a cui magari dobbiamo rispondere. Comunque ci vanno a togliere la nostra concentrazione in quello che stiamo facendo. Questo significa che questa tecnica deve essere elevata all'ennesima potenza. E cioè dobbiamo darci delle regole per gestire al meglio il nostro tempo. Altrimenti staremo sempre ad essere, ad avere una concentrazione alta allenante. Io lo dico spesso anche ai miei studenti, mi raccomando, l'offline. Il tatto più importante che hai sul tuo cellulare è quello di andare a mettere in silenzio. Alcuni dei miei amici lo sanno, quando io magari sono concentrato, spengo tutto e non voglio sentire proprio nessuno. E quindi come cosa generale però la potremmo anche accettare questa dell'inbox zero. Cioè andare a capire quali sono i processi importanti, quanto è importante il nostro tempo e quanto è importante la gestione del nostro tempo. Quindi andarci a dare un po' una regola su quando controllare, quando mettere a posto, quando andare a vedere le cose, ad esempio dei giochi o altre cose del genere. Quindi potremmo andarla ad accettare come filosofia generale, però davvero portata all'ennesima potenza, perché adesso siamo immersi, sommersi da notifiche, incontri, cose da fare, storie, commenti e così via. Bene, ora io ho finito, spero davvero che ti sia piaciuto questo video. Scrivimi qui nei commenti, guarda che li leggo, io mi do del tempo e la mattina leggo sempre i vostri commenti e cerco anche di rispondere. Quindi scrivimi nei commenti se ti è piaciuto, se vuoi altri video del genere. E mi raccomando, iscriviti al mio canale. Dai, a te non costa nulla. Sono pochi secondi, dai, che ci vuoi? Un click di mouse, invece per me è un grandissimo, enorme favore. Questi e tutti gli altri miei social. Ti aspetto davvero sul canale Telegram, tante, tante, tante offerte a settimana. Ora non mi resta che augurarti un buonissimo lavoro, anche con questa tecnica. Un ottimo studio, guarda che lo puoi usare anche nello studio. E quindi il tuo studio sarà molto più proficuo. E salutarti, ringraziarti tantissimo. Grazie, grazie. Ciao, alla prossima. Ciao, alle serate a parlare di malanni, congetture e le fobie. E la mia grande panofobia.